Il tutto è andato bene finché il gatto non si è comprato un padrone pensando che fosse il suo cane. A quel punto mi sono sentito in dovere di intervenire e ho cacciato di casa il mio cane, il suo cane e il cane del cane del cane. Ma a quel punto mi sono sentito solo come un cane e mi sono comprato un nuovo padrone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.